il sindaco si vede che c'ha una fabbrica che va sempre gemelli e cravate basta che non fa le furie bravo il sindaco poi ce la mettiamo alla festa di San Domenico ok qui tolano qui tolano qui tolano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scambia il nostro sindaco di Sorbona con il sindaco della città di Mon, Maurizio. Questo comunque, Maurizio, signori sindaci, una cosa devo dire, Maurizio, questo vaso dovrebbe stare all'entrata del comune della città di Mon, quella metrata che c'è lì. No, 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 tutto lo vuole portare a casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.